Il popolo inglese Le madri di questi ragazzi cosa fanno? Ci si risponde, sono tutti dalla modista e le madri, ah beh le madri è un'altra cosa, sono tutte impegnate nella crociata contro il mal costume. Il lavoro è lento e difficile, richiede molta pazienza sia da parte del parrucchiere che della, eh pardon, del cliente, ma i risultati sono quelli che sono. Quanto siete carini e adesso che vi siete fatti la permanentuccia santula, ma andate un po' a zappare la terra!